Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà. Vieni Divina Volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre Mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 28, 24 marzo 1930 La creatura non è altro che effetto dei riflessi di Dio. Amore di Dio nel crearla, la fermezza nel ripetere gli stessi atti, forma nell'anima la vita del bene che si vuole. Stavo facendo il giro nel Fiat divino per seguire tutti gli atti suoi e giunta nell'Eden comprendevo ed ammiravo l'atto magnanimo di Dio ed il suo amore esuberante e rigurgitante della creazione dell'uomo. Ed il mio sempre amabile Gesù, non potendo contenere le sue fiamme, mi ha detto. Figlia mia, il nostro amore si invaghì tanto nell'atto che creammo l'uomo che non facemmo altro che riflettere sopra di lui affinché fosse opera degna delle nostre mani creatrici. E come i nostri riflessi piovevano sopra di lui, così nell'uomo gli veniva infusa l'intelligenza, la vista, l'udito, la parola, il palpito nel cuore, il moto alle mani, il passo ai piedi. Il nostro essere divino è purissimo spirito e perciò non abbiamo sensi nell'assieme di tutto il nostro essere divino. Siamo luce purissima e inaccessibile. Questa luce è occhio, è udita, è udito, è parola, è opera, è passo. Questa luce fa tutto, guarda tutto, sente tutto, si trova dappertutto. Nessuno può sfuggire da sotto l'impero della nostra luce. Quindi, mentre creiamo l'uomo, fu tanto il nostro amore che la nostra luce, portando i nostri riflessi sopra di lui, lo plasmava e plasmandolo gli portava gli effetti dei riflessi di Dio. Vedi dunque, figlia mia, con quanto amore fu creato l'uomo, fino a sciogliersi il nostro essere divino in riflessi sopra di lui per comunicargli la nostra immagine e somiglianza. si poteva dare amore più grande, eppure lui si serve dei nostri riflessi per offenderci, mentre si doveva servire dei nostri riflessi per venire a noi e con i riflessi dati da noi dirci ma quanto bello mi creò il tuo amore. Ed io per contraccambio ti amo, ti amerò sempre e voglio vivere nella luce della tua divina volontà. Onde continuavo a seguire gli atti nel Fiat Divino e pensavo tra me. Sono sempre da capo. Ripetere e ripetere sempre la lunga storia dei miei atti del volere divino, la lunga cantilena del mio ti amo, ma quali ne sono gli effetti? O se potessi ottenere che la divina volontà fosse conosciuta e regnasse sulla terra almeno mi sarebbe tanto guadagnata. Ma mentre ciò pensavo il mio amato Gesù mi ha stretto al suo cuore divino e mi ha detto figlia mia la fermezza nel chiedere forma la vita del bene che si chiede, dispone l'anima a ricevere il bene che vuole e muove Dio a dare il bene che si chiede. Molto più che coi tanti ripetuti atti e preghiere che ha fatto ha formato in sé la vita l'esercizio, l'abitudine del bene che chiede. il Dio vinto dalla fermezza del chiedere le farà il dono e trovando nella creatura in virtù dei suoi atti ripetuti come una vita del dono che le fa convertirà in natura il bene chiesto in modo che la creatura si sentirà posseditrice e vittoriosa di sentirsi trasformata nel dono che ha ricevuto. Perciò il tuo chiedere incessantemente il regno della mia divina volontà forma in te la sua vita ed il tuo continuo ti amo forma in te la vita del mio amore ed avendoti io fatto il dono dell'uno e dell'altro senti in te come se la tua stessa natura non sentisse altro che la virtù vivificatrice del mio volere e del mio amore per la fermezza nel chiedere assicurazione che il dono è suo e col chiedere per tutti il regno della mia divina volontà è preludio che gli altri possono ricevere il grandono del mio Fio al Supremo quindi continua a ripetere e non ti stancare grazie a tutti bene amici miei carissimi cominciamo anche oggi questa meditazione spettacolare due parti distinte entrambi importanti entriamo subito nel merito addentrandoci la prima cosa è Luisa nell'Eden quante volte Luisa andava nell'Eden a contemplare il più grande capolavoro che Dio ha fatto al di fuori certamente dell'opera della redenzione del dono della divina volontà cioè la creazione dell'uomo attenzione ad alcune cose qui chiaramente il momento storico in cui capita questa meditazione è dentro la mia anima come dire influenzato dal parallelo ciclo di catechesi che sto tenendo sul peccato originale che appunto si è giunto ad un momento dove sono state analizzate in maniera critica alcune narrazioni del presunto presunte narrazioni del peccato originale che appaiono insomma veramente fuori luogo qui attenzione Gesù con termine perfettamente consono a quello usato nel testo del libro della genesi afferma che la creazione dell'uomo è una plasmazione proprio plasmazione se si vede proprio il testo della della genesi plasmare il fango è come un uomo che lavora l'argilla che prende l'argilla e compie quelle operazioni manuali tali che dall'argilla poi esce fuori una forma compiuta un vaso una scodella che ne so un contenitore una statuetta di un uomo uno con l'argilla una volta che la sa plasmare quello che vuole ecco l'operazione creativa viene descritta in maniera così bella dal libro della genesi fango quindi ciò che viene dalla terra che Dio plasma e qui il gesto della plasmazione diciamo così è descritto attraverso i riflessi dobbiamo contemplare questa immagine riflesso quindi qualche cosa che c'è il riflesso lo dà lo specchio no? quindi ciò che è contenuto attenzione nella luce stessa dell'essenza divina che è bellissimo oggi Gesù ci ha fatto proprio volare nella quintessenza della stessa sostanza divina il nostro essere è purissimo spirito noi non abbiamo sensi in Dio non ci sono i sensi come in noi nell'insieme di tutto il nostro essere divino siamo luce purissima e inaccessibile questo Dio è luce in Lui non ci sono tenebre vive San Giovanni in Lui era la luce in Lui era la vita la luce era la vita degli uomini la luce splendida nel mondo ma gli uomini non l'hanno accolto Gesù io sono luce io sono la luce del mondo chi segue me non cammina nelle tenebre ma era la luce della vita ma anche la prima parola che Dio ha pronunciato sia la luce fiat lux vai chi or in ebraico e la luce fu la luce la luce Dio è luce e dice che è questa luce che tutto guarda tutto sente tutto fa si trova dappertutto e nessuno può sfuggire da tutto l'impero della nostra luce non c'è neanche un minimo movimento della nostra anima né un pensiero recondito questo noi ogni tanto dobbiamo prenderne coscienti Dio conosce tutto è tutto nudo e scoperto dinanzi ai suoi occhi e ha la tua luce dice la saga scrittura meravigliosa vediamo la luce non dobbiamo mai sfuggire dalla luce dell'altissimo non dobbiamo mai non dobbiamo mai vedete quando uno vuole essere certo di agire secondo coscienza mi si perdoni questa piccola digressione deve mettersi sotto questa luce che cosa significa prendere coscienza e dico Dio mi sta guardando Dio mi sta vedendo Dio conosce le intenzioni profonde con cui sto facendo questa cosa il perché e il per chi bene detto questo la faccio questa cosa o no se fossi cosciente come non lo siamo in questa vita di stare dinanzi a questa luce che farei? io molte volte per far ripetere le persone dico senti io non ti dico niente come sempre dico pensa a quello che vuoi fare dopodiché pensa che un giorno ti troverai dinanzi al Signore perché un giorno te ci troverai potresti dire dinanzi al Signore io davanti a te ho fatto questa cosa perché pensavo che fosse veramente il bene e la tua sola volontà se puoi dire questo falla perché non sarai certamente giudicato dall'altissimo ma attenzione farlo sinceramente quando noi ci mettiamo guardate questo sistema è infallibile io lo sto lo sto veramente testando in continuazione e le persone senza bisogno che nessun gobbo mi si perdoni il termine le imbecchie e gli dica qualcosa capiscono sempre tutto tutto perché già lo sappiamo dentro il nostro cuore quello che dobbiamo fare se non sfuggiamo da questa luce da cui è impossibile sfuggire siamo soltanto noi che possiamo come dire convincerci illuderci di poterci nascondere non possiamo capito non è possibile Dio vede tutto questo non deve darci l'idea come dire dice mamma mia ma Dio vede tutto tutto e di ogni minimo pensiero affetto sentimento ci chiederà conto il giudizio di Dio comparirà tutto davanti a lui si legge nel meraviglioso di Esire di Esire quid quid latet apparebit qualunque cosa sia nascosta apparirà nil nichil in ultum remanebit e niente di impunito resterà di quello che è che non funziona sui occhi niente nemmeno un pensiero balordo nemmeno un'intenzione impura questo ogni tanto bisogna ricordarlo ma non perché ci venga come dire ma perché noi dobbiamo essere coscienti capiamo che dentro l'orizzonte dell'amore dentro l'orizzonte della divina volontà questa percezione non ha nulla come dire di minaccioso o di negativo perché è una persona che vive nella divina volontà se tu gli dovessi chiedere senti un po' ma quale sarebbe la più grossa Shakura il più grande dolore che tu potessi potresti provare in questa vita terrena dimmelo subito non si sta troppo a pensare una persona che vive che vuole vivere quantomeno anche se non ci vive ancora perfettamente perché qui in questo mondo amici miei speriamo di poter raggiungere la perfezione ma è molto difficile ma una persona che soltanto vuole vivere tu gli dici senti un po' ma qual è la cosa più brutta che potrebbe capitarti ti rispondo subito dispiacere anche nella cosa più piccola possibile immaginabile al mio signore se io dovessi sapere una cosa di questa io preferirei 100 miliardi di morti piuttosto che una cosa del genere ma capite che dentro questo orizzonte il sapere di stare sotto la luce dell'altissimo non è dice mamma mia non ci sta la privacy ma no perché siamo contenti perché abbiamo la possibilità in continuazione come dire di crescere di di vedere dove sta il bene di confrontarci di lasciarci correggere no non c'è non c'è niente che non funzioni chi è che deve temere la luce dell'altissimo così come chi è che deve temere il giudizio dell'altissimo i cattivi non i buoni mi si perdoni la semplificazione un pochino poerile ma tanto per farci capire no quindi quelli che sfuggono quelli che si sottraggono quelli che si mettono contro l'altissimo non i suoi amici quando Gesù dice nel Vangelo che quando il figlio di Roma verrà verrà come un ladro ma per chi viene come un ladro per quelli che dormono e si vanno a bere e ubriacarsi ma per i suoi amici ma qual era dei suoi amici tutti i giorni stanno in attesa magari fosse oggi il giorno che viene il nostro signore quindi non è possibile che venga come un ladro perché stanno sempre svegli ad aspettarli e non vedono l'ora che arrivi quindi per loro non sarà un ladro per loro sarà il benvenuto non solo il benvenuto più che benvenuto il benvenutissimo per Antonomasia l'amico atteso per una vita dice ma quando viene o quando arriva è una vita che sto alla porta a aspettare che mi bussi e dice portami con te tienimi con te portami via quale ladro non è roba per gli amici di Dio questo qui quando Gesù parla chiaramente non parla ahimè purtroppo solo per i suoi amici parla anche per quelli che tanti amici suoi disgraziatissimamente poverini e preghiamo tanto per loro non ci sono no allora dai riflessi di questa luce che cosa viene il nostro occhio per esempio il nostro udito la nostra parola le nostre opere i nostri passi e questo ce l'abbiamo anche noi abbiamo perduto certamente la la perfezione la bellezza incorrotta di Adamo questo ce l'abbiamo anche noi e attenzione qui Gesù poi subito da una piccola sta affilatina che cosa fa l'uomo si serve dei nostri riflessi abbiamo capito cosa sono i riflessi no quindi nella luce di Dio c'è occhio c'è udito c'è parola c'è opera c'è passo e noi abbiamo i sensi noi abbiamo nei sensi il riflesso della luce di Dio nei sensi e nelle facoltà no che abbiamo noi ce l'abbiamo gli occhi ce l'abbiamo le orecchie ce l'abbiamo l'intelligenza ce l'abbiamo le parole ce l'abbiamo le opere ce l'abbiamo i passi come cose specifiche distinte bene in noi no sono sensi sono facoltà sono inclinazioni sono passioni e che cosa fa l'uomo si serve dei nostri riflessi per offenderci mentre se ne doveva e possiamo parafasare se ne deve servire dei nostri riflessi per venire a noi il nostro che cosa guardi tu con l'occhio esterno e con l'occhio interno ma un occhio che un occhio che viene da Dio ma un occhio che viene da Dio ma non si sporca a guardare l'immunnezzaio che c'è sta gesto in giro non ce li mette gli sguardi su meno che mai sulle porcherie meno che mai ma la cosa più bella che Dio ha fatto l'occhio umano è una perfezione meravigliosa ma ti pare che io la vado a usare per queste schifezze per cose tanto degradanti per cose che fanno schifo pure ai diavoli ma manco morto ma io uso gli occhi per guardarmi le montagne per guardarmi il sole per guardarmi le nuve per guardarmi il cielo per guardarmi un bel quadro per guardarmi le immagini della Madonna per guardare una bella chiesa per fissare lo sguardo le ore sul santissimo sacramento sull'ostia consacrata con lo sguardo e la valza ma io per questo uso gli occhi e le orecchie facciamo quante stupide quante chiacchiere quante sciocchezze quante cose che facciamo entrare dentro il nostro cervello quindi dentro la nostra anima poi attraverso le porte non le porte principali sono gli occhi e le orecchie quello che vediamo è quello che ascoltiamo ma io la monnezza dentro l'orecchie e dentro il cervello non ce la faccio entrare non ce la faccio entrare c'è un salmo bellissimo che dice il programma del re fedele a Dio chiude gli occhi per non vedere il male e si tura gli orecchi per non udire fatti di sangue ma io non voglio usare le mie orecchie per questo monnezzaio qua e le parole Dio ci conseda la grazia che non che impariamo non soltanto a non sparlare a non vulgarare scusami se perdono il neologismo a non dire vulgarità a non maledire a non bestemmiare tutte queste cose qui dice il libretto di Don Giuseppe Tomaselli sempre molto carino che parla dei peccati di lingua a pare che ce n'erano non so dieci tredici di distinti ma le parole non ci sono manco per dire parole inutili parole non necessarie parole oziose le chiama San Tommaso nel Vangelo Gesù ci ha detto di ogni parola oziosa sarà chiesto contro agli uomini nel giorno del giudizio dobbiamo imparare piano piano questa cosa qui è o le opere che facciamo noi che facciamo dalla mattina alla sera perdere tempo i vizi oppure le cose che non servono a niente ma non le facciamo noi dobbiamo essere impiegati a fare tutte le opere che dobbiamo fare sono tutte quante per la gloria di Dio e per il bene del pros tutte non dico deviare come Sant'Alfonso Maria degli cuori che aveva fatto il voto di non perdere tempo beato a lui però tutto i passi dove andiamo che facciamo per la sua gloria non per offenderlo non per prendere i suoi riflessi e offendere il Signore fare il contrario di tutte le cose che ho accennato quando facciamo queste cose siamo anche con piacere ma che bella cosa che mi hai dato con gli occhi Gesù mio che bella cosa che mi hai dato con le orecchie con le mani con i piedi con la parola quanto bello ne ha creato il tuo amore io lo diciamo anche noi ed io per contraccambio ti amo ti amerò e ti amerò sempre e voglio vivere nella luce della tua divina volontà dette queste cose come dicono a Roma corcore ma proprio corcore corcore seconda parte lui da un certo punto ogni tanto gli dice senti un po' signore mio ma è possibile che ha già stato tutti i santi giorni a ripetere ti amo e ti amo e giro per le stelle e per il sole e metto il mio ti amo e poi giro per l'Eder e metto il mio ti amo nell'atto con cui creasti Adam e Devo e poi tutti gli atti che fecero quando stavano nella divina volontà e poi metto il mio ti amo e tutti quanti gli atti della storia dell'antico testamento da Abramo fino a Mosè fino a Davide fino a Esacco fino a Giacobbe fino a Esaia e Ceremia e poi tutti quanti gli atti della vita eterna di Gesù da quando è stato concepito fino a quando è risorto e è sceso al cielo e poi tutti gli atti della vita della Madonna e poi ce ne inventiamo quante ce ne pare d'accordo la mattina e la sera è chiaro che alcune cose sono sempre un pochino le stesse il sole è sempre quello faccio il giro nel sole il giro nel sole più o meno è sempre lo stesso si possiamo come dire elaborarlo un po' ma il sole è sempre il sole io l'ho detto ieri che metto il mio ti amo in ogni atomo della luce che esce dal sole e così nella divina volontà facciamo arrivare alla Santissima Trinità una caterva di ti amo e mettiamoci anche negli atomi del sole che non capisce niente quindi lui non è capace di ruotare all'altissimo lo faccio io per lui e lo faccio anche per tutti quelli che non lo fanno insomma più o meno il giro nel sole è questo qui e se domani lo voglio rifare è più o meno di fare la stessa cosa e se dopo domani è più o meno la stessa cosa ma qui mi ricordo quelle belle lezioni magistrales di Benedetto XVI quando parlava della liturgia ma la messa non è sempre uguale fondamentalmente sì poi certamente ma la messa fondamentalmente quella è sia che sia antica sia che sia nuova sempre quella è d'accordo e ci andiamo tutti i giorni o no la comunione non la facciamo tutti i giorni la lost è sempre la stessa certo non è sempre la stessa nel senso che è un'altra particola ma il fatto si ripete costantemente non diciamo tutti i giorni le stesse preghiere la nostra vita è una ripetizione continua di fatto ma questo è è ciò che costituisce la nostra santificazione perché è proprio questa costanza nel ripetere Gesù la chiama la fermezza nel chiedere che muove Dio a dare il dono che chiede e attenzione che qui ci sono delle pagine meravigliose di San Giacomo ecco il cugino del Signore il figlio del fratello di San Giuseppe che ci ha lasciato una splendida lettera che consiglio di leggere la lettera di San Giacomo la capisce pure uno sciocco è uno dei passi neotestamentari facilissima si capisce tutto quindi non c'ha quegli scogli di certi passaggi biblici consiglio vivamente la lettura proprio nei primissimi versetti al versetto 5 del primo capitolo San Giacomo scrive se qualcuno di voi manca di sapienza la domandi a Dio che dona a tutti generosamente senza rifacciare e gli sarà data la sapienza prosegue però la domandi però con fede senza esitare perché chi esita somiglia all'onda del mare mosse agitata dal vento guardate che belle queste parole proprio belle proprio e prosegue e non pensi di ricevere qualcosa dal Signore un uomo che ha l'animo oscillante e instabile in tutte le sue azioni ripeto non pensi di ricevere qualcosa dal Signore un uomo che ha un'animo oscillante e instabile in tutte le sue azioni guardate che bella questa espressione oscillante e instabile in tutte le sue azioni quindi capiamo quindi quanto è importante la ripetizione la costanza importantissima importantissima sono andato a ritrovare attenzione al volo il testo greco di questa espressione l'uomo che ha l'animo oscillante e instabile in tutte le sue azioni spettacolo fatto bene questa ricerca volante perché l'uomo instabile in greco è aner di psukos attenzione di psukos psuche sappiamo tutti quanti che significa la psiche no? significa letteralmente un animo dalla doppia psiche double minded si dice in inglese d'accordo? dalla doppia psiche cioè uno che mu pensa una cosa e mu pensa un'altra quindi un animo attenzione che non ha trovato guarda spettacolare l'unità interiore il centro il punto focale che è Dio sta ancora diviso d'accordo? tra cielo e terra tra Dio e mondo c'ha la doppia psiche c'ha la doppia vita c'ha la doppia personalità quando si mette a pregare sembra un angioletto che è quando esce dalla preghiera comincia a immergersi fuffo come nelle cose del mondo si dimentica pure che Dio esiste ah questo non fa nessun passo la stragrande maggioranza della gente attenzione concepisce proprio la religione la fede come questo cioè come un qualche cosa che tu apri delle finestre d'accordo domenica o quando preghi e poi si chiudono questo 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 non ha niente a che fare con la vita di fede l'altro termine l'uomo oscillante instabile a katastatos ah questo questo è un altro spettacolo perché c'è l'alfa privativo come al solito e istemi in greco significa proprio stare in piedi è una persona che sta che sta in piedi a testa alta una persona che sta dritta quindi akatistemi quindi katistemi vuol dire proprio stare proprio saldamente in piedi katà è quello che non sta saldamente in piedi quindi è l'incostante l'instabile attenzione che queste due queste due problematiche quindi la divisione interiore quindi la doppia psiche e l'instabilità chi ce l'ha non so tanto non pensi di ricevere nulla da Dio ma meno che mai pensi di entrare nel mondo della divina volontà non esiste proprio perché la divina volontà richiede proprio che la decisione è che io la mia volontà umana la mia volontà umana io per quanto sta in me per quanto riuscirò a prenderne consapevolezza non la voglio conoscere non c'è ce ne è rimasta una sola questo penso che non serva specifichiamo perché ogni tanto fa bene ricordare non è che la nostra volontà umana si annulla ma la nostra volontà umana è completamente rivolta assorbita fusa con quella divina quindi è iperattiva ma è iperattiva non per vivere una vita schizofrenica che un po' stacco Dio un po' stacco altrua ma per stare ininterrottamente operando in lui e con lui e poi che non sia incostante instabile io vi dico amici la mia esperienza di sacerdote la stima che ho imparato ad avere nel corso del tempo di questa virtù io adesso ho fatto da poco 18 anni di sacerdozio non sono tantissimi non sono però neanche pochissimi in 18 anni di sacerdozio tu vedi davanti una caterva poi il Signore mi ha messo davanti di vite di storie quante cadute anche gloriose modiate dal fatto che si è andati avanti per un certo tempo e poi patapumpete come diceva il buon Padre Dio la fede non è di chi bene comincia né di chi va avanti per un certo tempo ma di chi persevera fino alla fine in tutto ed è una virtù difficile difficilissima tant'è vero che addirittura la Chiesa nel Consiglio di Trento ha detto ha sancito come verità di fede che la perseveranza finale è un dono di Dio che dobbiamo chiedere nella preghiera perché è difficile rimanere rimanere di continuare continuare si fa sempre le stesse cose e farle tra l'altro sempre meglio senza stancarti senza stancarti avanti 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 di bene in meglio di bene in meglio sempre meglio sempre di più sempre meglio sempre di più senza voltarti indietro catechesi di ieri sera biblica la moglie di Lot che esce da Sodoma si gira e diventa una statua di sale no? voltarsi indietro quanti mamma mia quanti e quante quanti e quante e altro che statua di sale minimo statua di sale se non peggio ecco quindi solo la fermezza nel chiedere dice Gesù dispone l'anima a ricevere il bene e muove Dio a darglielo la fermezza nel chiedere questo vale in particolare per la divina volontà noi dobbiamo notte e giorno stare a chiederla per noi e per tutti incessantemente lascia perdere tutte quante le altre stupidaggini che chiediamo incessantemente dobbiamo sbatturare fino a quando questa cosa non me la dai io non cesserò il mio grido giorno e notte notte e giorno e presto o tardi perché non dovrai da no? io continuo ci vorranno 30 anni 40 e io continuo tutti 30 e 40 e poi vediamo che succede dove sono gli esseri umani che queste cose qui le vivono però e ci vogliono qualcuno c'è non sono tantissimi ma qualcuno c'è altrimenti il mondo sarebbe già finito da un pezzo e noi cerchiamo di essere con l'aiuto del Signore tra quei pochissimi ricordiamo che la fermezza nel chiedere è già assicurazione che il dono è suo se noi stiamo ancora qui catistemi quindi stiamo ancora in piedi stiamo ancora avanti senza metterci l'alfa privativo davanti presto o tardi la quadra deve arrivare non può non arrivare non può è impossibile ecco chiediamo al Signore di essere tra questi pochissimi che fanno questo formano in sé la vita l'esercizio l'abitudine del bene che chiedono che chiedono di fare l'esercizio di essere un'esercizio di essere l'esercizio di essere un grandissimo grazie anche oggi a te Signore Gesù per le cose stupende che incessantemente ci comunichi e ci trasmetti io al termine di ognuna di queste meditazioni rimarrei veramente senza senza parole perché sono delle cose veramente stupende quelle che ci vengono trasmesse ripensare ai riflessi alla luce inaccessibile o alla fermezza gli argomenti un pochino di di oggi è bello bene la nostra priera che possiamo servirci dei nostri dei riflessi della tua luce inaccessibile con cui siamo stati creati non per offenderti ma per amarti incessantemente e che possiamo essere stentori fermi immobili inamovibili con la nostra costante crescita nel bene nella vita di unione con la tua volontà nella ripetizione degli atti che ci santificano senza mai senza mai esitare senza mai barcollare senza mai tentennare senza mai voltarci indietro amen nella divina volontà nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen Fiat Ave Maria